Siamo in piazza Vico Pisano per iniziare a raccogliere le firme, per uscire dall'euro per un nuovo sistema monetario nazionale che consente di riprenderci la solidarietà monetaria. A Vico Pisano ma anche in altre piazze d'Italia ci sono i banchetti e continueranno per i prossimi mesi per raggiungere le firme possibili, per indire un referendum su questo tema. Per trovare i prossimi banchetti, per le prossime date informatevi sul sito www.vicopisano5stelle.it o www.foridalleuro.com che è il sito ufficiale. Noi vi aspettiamo sabato 20 in biblioteca a Vico Pisano per un nostro rendiconto sull'attività consigliare dei primi sei mesi dove illustreremo quello che abbiamo visto all'interno della macchina comunale e illustreremo le proposte che abbiamo portato in comune e gli obiettivi che abbiamo raggiunto.